Nuovo appuntamento per la New Basket Agropoli che dopo il recupero contro l'Angri di mercoledì scorso ritorna sul parchè sabato in trasferta contro Cercola. Palla a due alle ore 18 presso il palazzetto dei Platani di Cercola. I Delfini vengono da un momento positivo con tre gare vinte su quattro contro la Mezzia, Rende ed Angri e vogliono chiudere il girone di andata in testa alla classifica. Cercola è al secondo posto e vuole guadagnare terreno quindi ce la metterà tutta per portare a casa i due punti. Una gara quindi che si annuncia scoppiettante. Queste le parole del coach Franco Lepre. In vista del match i nostri avversari sono secondi in classifica con due vittorie contro Salerno e Angri. Ha perso per un solo punto sia contro la Mezzia che contro Rende. Sarà una gara ostica. Loro in casa sono particolarmente insidiosi. La squadra, ben allenata tatticamente, presenta un mix interessante tra giocatori esperti e giovani che danno intensità al gioco. Noi dal canto nostro siamo in fiducia e andremo lì per vincere. L'obiettivo nostro sono le tre vittorie consecutive e poi durante la sosta pasquale recuperare gli acciaccati per ripartire poi al completo e in forma nella ripresa del campionato.